Ya zamir, che sia in ucraino che in russo, a parte qualche differenza di pronuncia, è la stessa cosa. Vuol dire io voglio la pace. Ya zamir. Ya zamir. Ya zamir, 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 muiridni ucraini. Pace per l'Ucraina. Mere le ucraini, pace per l'Ucraina, pace per tutta la gente, pace pure per l'Europa, perché prossimi siete voi. Lei è Maya, è ucraina e vive nel nostro paese. Con il marito italiano ha intrapreso questa iniziativa. L'Associazione Culturale Cristiana Italo-Ucraina ha infatti organizzato a pescare la raccolta di medicinali da spedire nel paese dell'Est per l'emergenza di questo periodo. C'è un presidio all'ingresso del parcheggio della stazione dove è possibile portare soprattutto medicinali, spiega il coordinatore Carlo San Vitale con un pullman che parte proprio oggi. I cittadini cosa possono portare? Noi raccogliamo medicinali perché per quelli che ci hanno avvisato dall'Ucraina è quello che manca di più. medicinali di prima necessità che possono essere dalle siringhe, dalle garze, lacci emostatici, antinfiammatori, se qualcuno riesce a portarci qualche antibiotico, ecco, medicinali di prima necessità, disinfettanti, questo. Oggi parte un pullman verso l'Ucraina e voi sperate che ne partano anche altri in futuro? Sì, su questo noi oggi partirà un pullman, a una certa ora caricherà il materiale con la speranza che poi possono entrare altri pullman, che sono pullman di linea perché i pullman normali non passano e con la speranza che in settimana caricheremo altri materiali. E quello che ho, che ho centinaia di telefonati di italiani, questo non me l'aspettavo sinceramente, che sono pronti a soddisfare queste esigenze. C'è volontà di accoglienza da parte degli abruzzesi? C'è tanta, ho un elenco di persone che mi hanno detto che mettono a disposizione una camera, una casa, chi ha le doppie case sul mare, devo dire che mi hanno telefonato anche qualche di Nazionità Russa che ha chiesto anche scusa. Tutti vogliono pace e tutti vogliono vivere pace, vogliamo vivere liberi. Maia, chi c'è in Ucraina dei tuoi familiari? Ci sta, ci sta familiari, ci sta tantissimi familiari. Cosa ti raccontano, cosa succede ogni giorno? Allora, tutti vivono un paura enorme, però tutti pronti a battersi, tutti pronti a difendere la nostra terra e tutta la gente che non abbandona la nostra terra per niente, solo chi viene qui, donne con piccoli bambini. Già sono arrivati i primi profughi in Abruzzo? Allora, ieri a Pescara sono scesa, almeno per Pescara una decina, ma questi più che profughi sono persone che hanno già i familiari qui, non sono quei profughi che non hanno niente. e questo non sappiamo ancora cosa lo Stato può fare, può aiutare.